La scuola di applicazione per la reggia aeronautica, grande istituto militare unico in Italia, composto di quattro gruppi di monumentali edifici su un'area complessiva di 110.000 metri quadrati, destinata ad ospitare 300 ufficiali piloti che vi seguiranno corsi di applicazione dopo aver frequentato l'Accademia di Caserta inaugurata con solenne rito dell'Alzabangiera nel quindicesimo manuale della fondazione dell'arma aeronautica. Grazie a tutti!